Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sofia e Luna non dovranno attendere. Arriva subito, infatti, il primo premio per la sezione vincente. Le telefonate a casa. Madonna, sta cosa è il più prestoico di quello che ha mia nonna. Che cazzo era scusa? Per rumorino. Sono rumoriano. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Mamma, non puoi capire, mi hanno fatto il caschetto. Come caschetto? Ho pure la frangetta, paro un chihuahua. Come ti trovi con i compagni? Sei diventata la miglia amica di una ragazza qui. Si chiama Sofia. Ciao, ciao. Mamma. Mamma, mamma. Mi manchi tanto. Mamma, mi hanno fatto la frangia, mamma. Mamma, mamma. Mamma, mamma. Però sto qui. La polenta. La polenta. Potre ti piacerebbe che mi facessero la polenta. Mi piacerebbe che mi facessero la polenta. Mi piacerebbe? Ma sono veramente tutti i tuoi pevinini. Perché con le altre tipe, tipe, non è la stessa cosa. Ma se qualcuno si gode il meritato premio, qualcun altro invece deve ancora porre rimedio alle proprie malefatte, estirpando le erbacce dell'orto. Faticoso, faticoso, però dai, me lo merito. Sto pensando a rimanere qui dentro il più possibile e di non far picche volate, quindi mi sta aiutando molto questa cosa, almeno così mi fa sfogare anche un po', e invece di lanciare le sabate, magari mi sfogo mettendo a posto l'orto. Tommi! Ehi! Ehi, Tommi mio, come stai? Mi mancate. Anche tu ci manchi? Ti stai divertendo qua? Sì, dai. Ha detto la mamma impegnati nello studio, cerca di arrivare alla fine vittorioso, ok? Sì, infatti questi giorni che comunque me la sto vedendo da solo per tutto, mi sto rendendo conto che sto facendo passi da gigante. perché tu sei un grande, ricordatelo sempre, ok? Sì. Ciao amore mio. Ciao. Una commozione. Far fronte da soli per la prima volta a momenti di difficoltà non è sempre facile. A volte però un semplice gesto Buonasera ragazze. può riuscire a cancellare i problemi creati. Grazie mille. Grazie dai fio Eccola. Tutto tuo. Ci faccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.